Buongiorno ragazzi, un'altra live trailer action oggi, oggi però di una serie tv HBO, è appena uscita la prima, la prima, il primo trailer, credo che sia un teaser di Westworld stagione 3, che uscirà nel 2020 e grande debutto per Aaron Paul, vediamo, 3, 2, 1, via, via. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Mm, grandissimo finale del trailer! HBO 2020 , grandissimo incontro nel finale del trailer. allora sembra tutto un altro mondo sembra tutto ambientato nel futuro dopo gli eventi delle due precedenti stagioni c'è un grandissimo finale che avete visto, non so chi incontra avete notato e le premesse sembrano buone sembra che non sarà ambientato all'interno del parco almeno sembrerebbe tutto infatti il finale della seconda stagione ha una conclusione che ci poteva stare vediamo perché riuscirà a superare il primo dei due stagioni non sarà per niente facile cioè il primo dei due stagioni è veramente bellissimo è una delle serie tv più belle che abbia mai visto negli ultimi anni veramente a un livello impressionante dà un'idea di un semplice film degli anni di fine degli anni 80 prendersi diretto da Michael Crichton buonanima una grandissima serie tv che è riuscita a superare l'originale veramente incredibile, veramente fantastico dateci un'occhiata e poi sentiamo cosa pensate nei commenti alla prossima ragazzi ciao